84 incontri, 106 comunicati, 6.296 firme raccolte. Ad un anno dalla sua nascita sono questi i numeri del Comitato Sava a favore della collocazione ad Arezzo della stazione Alta Velocità Medio Etruria. Il Comitato ha dialogato con le istituzioni producendo studi e documenti d'analisi. In questo momento segue con attenzione, anzi sollecita il lavoro del tavolo tecnico del Ministero dei Trasporti con RFI, gestore della rete ferroviaria nazionale, più Regione Toscana ed Umbria. Il tavolo è stato formalizzato ma non si è ancora riunito. Di recente il Comitato, guidato da Matteo Galli, ha incontrato nuovamente il governatore toscano Eugenio Gianni che ha confermato l'impegno su questo tema per quanto complesso e di difficile armonizzazione tra territori. Ricordiamo che Medio Etruria è contesa tra Chiusi, Farneta e Arezzo e proprio Arezzo Sud emergerebbe come luogo più adeguato in base ad uno studio del 2015 della Regione Toscana, confermato nel 2022 da Andrea Spinosa dell'Università La Sapienza di Roma. I motivi? La prossimità con la 1 e lo scambio tra linea lenta e direttissima, oltre al bacino d'utenza e al flusso veicolare su gomma. A questo punto è tutto in mano a Salvini e Meloni incontrati a Firenze nel settembre scorso.